Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Generale stabilità sulla Liguria, sebbene la risalita di un'area depressionale dalla penisola iberica verso le isole britanniche continua a convogliare sulla regione nuvolosità medio-alta a tratti più compatte. Un flusso umido meridionale favorisca densamenti di nubi basse sul centro ponente da venerdì. Il dettaglio oggi, giovedì 16 aprile, velato per il transito da ponente verso Levante di nuvolosità alta e irregolare, più consistente nel primo pomeriggio, temporanea schiarita nel tardo pomeriggio, venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali in rinforzo fino a moderati a ponente, locali regimi di brezza sul centro levante, mare in prevalenza poco mosso, tramosso e poco mosso nell'estremo ponente, temperature massime stazionarie lungo la costa tra 18 e 20 gradi, anche nell'interno tra 18 e 20 gradi. Venerdì 17 aprile, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso con passaggi di velature. Dalle ore centrali aumento delle nubi per il transito di nuvolosità alta più compatta da ponente verso Levante per l'instaurarsi di un flusso sudorientale nei bassi strati con conseguenti addensamenti marittimo-costieri sul centro ponente, venti generalmente deboli sudorientali o in regime di brezza sul centro levante, moderati nordorientali sull'imperiese, mare in prevalenza poco mosso, mosso nell'estremo ponente, temperature minime in aumento lungo la costa intorno a 10-11 gradi, nelle zone interne intorno a 5-6 gradi, massime stazionarie lungo la costa intorno a 18-19 gradi, nelle zone interne tra 18 e 21 gradi. Dopodomani, sabato 18 aprile, irregolarmente molto nuvoloso per il transito di nuvolosità stratiforme medio-alta, tratti consistente e il persistere di un flusso sudorientale che favorirà la formazione di nubi basse sul centro ponente, dove non si escludono sporadiche piovigini e lo sconfinamento costiero di nebbie marittime. Venti in prevalenza deboli in circolazione ciclonica sul Ligure con qualche rinforzo da nord-est a ponente, locali e regimi di brezza sul centro levante, mare poco mosso localmente mosso al pomeriggio sull'estremo ponente e a Levante, temperature minime in aumento lungo la costa tra 12-14 gradi, nelle zone interne intorno a 7-8 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 18-20 gradi, nelle zone interne tra 17-23 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!